In Italia circa il 30% delle coppie presenta problemi di infertilità e nei paesi occidentali vari fattori concorrono al problema come lo stress, gli stili di vita, gli inquinamenti ambientali o la diagnosi tardiva o mancata di un'eventuale patologia. Sarà il dottor Marco Firmo, dirigente dell'unità operativa di chirurgia andrologica della Casa di Cura San Giovanni di Milano, ad approfondirci questo argomento nella prossima nuova puntata di Medicina Amica, ponendo in particolare l'attenzione sull'uomo che, secondo un'importante ricerca da lui condotta sugli spermatozoi, dimostra come la salute cellulare del seme rifletta esattamente lo stato di salute globale dell'individuo. Appuntamento martedì 2 marzo in diretta televisiva e in streaming in prima serata.